Tesoro, me la dai? Ma, amore, cosa dici? Eh, dai! Ti prego, dammela! No, stasera no. Dai, lasciami in pace. Ma l'avevi promesso? Uffa, proprio stasera che volevo fare... Lo sai che ci tengo. Eravamo d'accordo. E va bene. Expo Art, la rivista d'arte e cultura italiana, strettamente dedicata alle espressioni artistiche contemporanee.